Amici di Radio Speranza in Blu, la radio della Chiesa di Pescara Penne, un saluto da Davide di Amicis che vi parla e vi dà il benvenuto ad una nuova puntata di Servizi e Interviste, la nostra rubrica di approfondimento che oggi vi racconta la solennità di Pentecoste vissuta nella Chiesa di Pescara Penne e in particolare a Civitella Casanova, sul sagrato della Chiesa di Santa Maria della Cona, dove nella giornata di domenica 19 maggio 2024, appunto, nella solennità che ricorda la discesa dello Spirito Santo sugli Apostoli, l'Arcivescovo di Pescara Penne, Monsignore Tommaso Valentinetti, ha presieduto una santa messa, concelebrata dal parroco Don Norbert Maoco, che tra l'altro dà il là ai festeggiamenti in onore della patrona di Civitella Casanova, la Beata Vergine Maria delle Grazie, che dà il nome proprio alla parrocchia locale. Una festività di tre giorni che si concluderà martedì 21 maggio con la messa che verrà presieduta alle 18, sempre nella Chiesa della Cona, dal canonico Don Michele Cocomazzi. Una festività, quella della Beata Vergine Maria delle Grazie, intrecciata, incastonata, quella di Pentecoste, che tra l'altro vede un'altra tradizione antichissima, quella dell'indulgenza plenaria che può essere lucrata, varcando in uscita la Porta Santa di Santa Maria della Cona, ovviamente, in base a quanto previsto dai decreti della penitenziaria apostolica, che la concede ogni anno su richiesta dell'Arcivescovo Valentinetti. Ma noi vogliamo tornare alla messa di Pentecoste con l'Arcivescovo che nell'omelia ha dato un messaggio ben preciso ricostruendo l'importanza e il significato dell'azione dello Spirito Santo. Ha detto che lavora nelle nostre vite per condurle alla via del bene in maniera silenziosa, senza apparire in modo eclatante. Ma ascoltiamo l'omelia completa del Presure. In questa festa tradizionale di questa comunità parrocchiale, la Madonna della Cona, nel giorno di Pentecoste, ci dà la possibilità di parlare, ammesso e non concesso che si possa dire qualche cosa, su chi è lo Spirito Santo. Maria fu piena di Spirito Santo. Sappiamo bene che all'annunciazione l'Arcangelo Gabriele gli dice lo Spirito del Signore stenderà su di te la sua ombra e tu concepirai un figlio. Ma se parliamo di Dio Padre è facile dire Creatore e Signore di tutte le cose. Dio crea, Dio è l'Eterno. Se parliamo di Gesù Cristo, la seconda persona della Santissima Trinità, possiamo leggere i Vangeli, quante cose ha fatto, quante cose ha detto, ha vissuto una vita molto intensa, è morto sulla croce. I Vangeli ci dicono è risorto dai morti, ma dello Spirito Santo. Al di là delle parole del Vangelo, così come abbiamo ascoltato il Paraclito, il Consolatore, vi annuncerà, vi ricorderà, vi sarà presente, ma presente come? Qual è la modalità di questa presenza? Nella prima lettura abbiamo ascoltato che è sceso su Maria e gli Apostoli nel Cenacolo e i segni che essi hanno visto grande rombo di tuono, forte vento, lingue di fuoco, ma niente di più. E in un altro posto del Vangelo di Giovanni si dice che lo Spirito è come il vento, ne senti la voce, ma non sai da dove viene né dove va. E allora che cosa possiamo dire dello Spirito? Qual è la definizione? Qual è la possibilità di capirci qualcosa di più? Come ha lavorato lo Spirito Santo prima della venuta di Gesù sulla faccia della terra? Come ha lavorato lo Spirito Santo durante la venuta di Gesù sulla faccia della terra? Come ha lavorato e lavora lo Spirito Santo oggi, nella storia della Chiesa, nella storia della comunità cristiana, nella storia dell'umanità? Tutti quanti si aspetterebbero gesti eclatanti, come il giorno di Pentecoste, rombo di tuono, vento impetuoso, magari anche qualche lingua di fuoco, così bruciamo i nostri nemici. Niente di tutto questo. Non ci sono eclatanze che possono farci percepire la potenza dello Spirito. Sì, qualche miracolo, qualche manifestazione nella storia dell'umanità e nella storia della Chiesa si è manifestata, ma di solito lo Spirito lavora dentro la nostra vita, lavora dentro la storia degli uomini, lavora dentro la storia dell'umanità, si inserisce dentro le vicende umane per condurle alla via del bene. L'importante è essere capaci di percepire questa potenza dello Spirito, questa capacità dello Spirito di entrare dentro la vita di ognuno di noi. Sono un po' sconsolato da questo punto di vista, perché intorno a me molto spesso, ma la storia è quasi sempre uguale, vedo poca capacità ad accogliere lo Spirito. Non accolgono lo Spirito quelli che stanno facendo la guerra, non accolgono lo Spirito quelli che dicono che bisogna costruire delle armi, che bisogna spendere i soldi pubblici per costruire delle armi. Non accolgono il dono dello Spirito. E ieri il Papa a Verona ha sostenuto il popolo della pace, dicendo che la pace è l'unica soluzione e che la pace bisogna curarla. E poi ha aggiunto che non ci sono tanti uomini che stanno curando la pace, ci sono più uomini che stanno curando la guerra. E poi le cattiverie, i femminicidi, i bullismi, quante cose brutte che fanno percepire che non c'è questa attenzione alla grazia dello Spirito Santo che pur lavora. Ma il nostro compito come cristiani, come comunità cristiana, voi particolarmente piccola comunità cristiana di Civitella Casanova, dovete allargare il cuore alla potenza dello Spirito Santo, per vivere secondo lo Spirito Santo, per essere segno. Anche se vediamo intorno a noi fatiche, difficoltà, incertezze, inquietudini, noi possiamo essere il segno della presenza dello Spirito Santo nella storia dell'umanità e nella storia di questo paese. Una comunità cristiana coesa, una comunità cristiana che si vuole bene, una comunità cristiana che non pensa ai piccoli interessi privati, ai campanilismi, ma una comunità cristiana che respira l'alito dello Spirito Santo. Se è così, dimostreremo con la nostra vita, con la vostra vita, la nostra vita, che lo Spirito esiste e che lo Spirito può operare grandi cose. Che la Madonna della Cona ci accompagni, che la Madonna della Cona ci custodisca e lei che ha accolto lo Spirito Santo e in lei è stato generato il Figlio di Dio, possa generare ancora una volta anche in noi la presenza di Gesù Cristo nella nostra vita. Amen. E con le parole dell'Arcivescovo Valentinetti, invitandovi a visitare fino a martedì 21 maggio la comunità di Civitella Casanova in provincia di Pescara, Davide D'Amicis vi ringrazia per la cortese attenzione e vi augura un buon proseguimento in compagnia di Radio Speranza in Blu.